Professor Salkuni, il simbolo della fanoia, che cosa è la fanoia, che cosa significa? La fanoia deriva dal greco fanos, che significa luce, e quando c'è luce c'è speranza, si vede il futuro. Simbolicamente questa fanoia veniva accesa durante il periodo del passaggio, dal periodo autunnale, invernale, a periodo estivo, quando la gente puntava sulla crescita del grano, quando puntava sul risveglio e rigoglio della natura. Quindi è un modo per dire che i tempi brutti stanno passando e stanno arrivando i tempi belli, legati proprio a fattori meteorologici. E il fuoco ha sempre rappresentato questo momento di passaggio. Ecco, noi abbiamo visto che sulla fanoia, negli anni passati, ma anche quest'anno, vediamo che c'è una croce e anche l'immagine di San Giuseppe. Perché si brucia la croce? Il motivo è semplice. Innanzitutto c'è sempre stata la croce, magari qualche volta non sarà stata notata, però esiste. Perché? Perché la tradizione vuole che a fine serata, quando il fuoco sta per diminuire della sua intensità, le persone che circondavano questa fanoia raccoglievano le ceneri e anche un po' di carbone da portare a casa e mettere questa cenere nel proprio bracere, perché potesse continuare questo simbolo, questo segnale, che era sacra. In poche parole, quel residuo di fuoco è un qualcosa di sagro che portando a casa poteva essere apprezzato per tutto l'anno, finché c'era la possibilità di accendere il fuoco, c'era sempre questo simbolo sacro. Ecco, sappiamo che dopo due anni di stoppo praticamente la macchina di Pizzic e Muzzchi si è rimessa in moto e a quanto pare quest'anno c'è anche una novità, a quanto pare credo sia nata una costola da questa associazione. Sì, sì, come Pizzic e Muzzchi ci siamo resi conto che oltre a seguire le attività legate al folklore in senso lato, in modo particolare, canti, balli, musica. Siccome la famiglia sta prendendo piede, nel senso che sta riscuotendo un successo non indifferente, la gente partecipa, la vuol vedere, anzi aspetta da un anno all'altro questo evento. E prende anche tante energie e tanto impegno. Questo è indiscusso, c'è gente che si sta esaurendo, ti dico i nomi di quelli che li ha esauriti. E' nata questa, come l'hai definita tu, costola, che è un comitato della Fanoica che si sta già occupando e si occuperà, mi auguro, in futuro solamente di questo aspetto, quello della Fanoia. Quindi verrà seguito con un suo comitato, in poche parole, le energie saranno più concentrate sulle spalle di queste persone che si occuperanno di questo aspetto.